Oggi vediamo come rimuovere un video da YouTube Ciao, sono Alessia, mi occupo di social media marketing e ti do il benvenuto sul mio canale Oggi non parliamo di strategie di marketing, ma vediamo insieme come risolvere un piccolo problemino su YouTube che in realtà un problema non è, perché è un'operazione molto semplice, ovvero quella di eliminare i video però come al solito ci sono delle operazioni nascoste e quindi ci si perde davvero in un bicchier d'acqua alcune volte soprattutto quando si è alle prime armi infatti una delle ricerche più frequenti su YouTube è proprio quella di come eliminare i video quindi per oggi sarà un video tutorial, non vedete più il mio bel faccione ma vi farò vedere la ripresa dello schermo del mio computer e in due minuti riusciremo a cancellare il video di YouTube Bene, allora siamo alla nostra pagina canale e clicchiamo su YouTube Studio, versione beta e il tasto in alto a destra blu Dopo che vi abbiamo cliccato veniamo riportati quindi nella nostra sezione a sinistra vediamo la dashboard, video, dati analisi, commenti, trascrizioni e altre funzioni noi cliccheremo su video e da lì compariranno tutti i nostri video, quelli pubblici, quelli privati nel momento in cui scorriamo con il cursore sopra questi video vediamo che compaiono due icone tra le quali c'è anche questi tre puntini come vedi si apre poi questo menu a tendina e troviamo elimina che è il tasto che a noi interessa quindi come ti ho fatto vedere è molto semplice cancellare un video da YouTube in questo video ti ho parlato di come utilizzare la versione di YouTube Studio beta perché quella classica sta per scomparire quindi è importante imparare a familiarizzare con la versione beta spero che questo video ti sia stato utile se vuoi qualche altro video tutorial su come compiere determinate azioni su YouTube fammelo sapere nei commenti ti invito a mettere mi piace e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto besos